Sono alla terza partecipazione, quindi diciamo che l'attività, il modo di lavorare già negli anni precedenti era stato sperimentato. In generale posso dire che insegnando arte nel mio metodo di lavoro c'è quello della scoperta, delle visite, dell'indagine, quindi già questo faceva parte della mia professione. Sicuramente quello che è stato aggiunto invece è la ricerca d'archivio, anche per me, perché non ero io abituata a questo e quindi non lo suggerivo agli alunni. E devo dire che è stato interessante, è stato interessante negli anni precedenti in cui siamo stati all'archivio di Stato, quest'anno ci siamo basati solo sul ricerca d'archivio presso il Duomo di San Giorgio e anche quello è stato molto interessante per i ragazzi, scoprire questi documenti, andare a verificare le date, vedere che esistevano dei contatti, quindi che quello di cui si parlava da qualche parte era stato registrato, è stato veramente interessante. Ho notato che alcuni ragazzini fragili, che diciamo in classe non sono tra quelli più attenti o tra quelli più preparati, il fatto che siano stati scelti o che loro stessi abbiano scelto di partecipare, di raccontare anche una piccola parte, devo dire che sono stati molto interessati nel farlo, ma anche dopo ha avuto una buona ricaduta da un punto di vista scolastico, perché sono rimasti più attenti, partecipi e quindi questo è stato veramente un grande risultato. Ovviamente coloro che già sono di per sé interessati hanno continuato, ma già lì il terreno era fertile, ma scoprire che i ragazzini che normalmente erano distratti, adesso sono stati più interessati e alla fine dell'anno, almeno nella mia disciplina, hanno conseguito una buona valutazione, ma questo ovviamente è motivo veramente di grande orgoglio.